ok non ho armi non ti sei ma solo io in un'ora mi bevo quasi solo io in un'ora mi bevo quasi 4 litri di coca cola no non sei l'unico in un'ora mi bevo 4 litri di coca cola ho visto che è trollato e prima stamattina stavo facendo una partita avevo 16 kill cosa succede? mi crash al gioco e eravamo 1v1 rip dai crepa ciccione morto uno è andato dalla mamma che c'è a scillante mi risocio quante guadagniai per coniosità? 21 31 21 21 21 si fide 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 alla vostra c'è me ne sembravi di meno lol tipo una 18 19 19 9 sei alto C'è? C'è? Va bene lasciar... Chiudi! Certo! Quei miei amici! Certo! Ma a te fai qualche spot! No! Cioè lo faccio in i bopi! Vieni! Oh cazzo! No piscina! Ah bello! Facevo anche l'agonistico! Ah! Ma... Ma te Brescia la conosci? Brescia la conosci? La città? Eh! Non ci sono mai stato però da lì ho ricevuto parecchi strumenti musicali! Oh! Spari! Io gioco da dieci anni a Red Vibration! Bene! E lì a quei dieci anni si... si iniziano già a pagare! Eh... Quasi tipo cinquanta euro al mese! Attento a quelli che sento si... ho sentito sparia! Anch'io! Mi servirebbe un bel cecchino! Ecco qua! Gente con un bel porco! Di Cristo! Dov'è? Eccolo! Sis eh.. ciao! Io non credo proprio! Ahah! Godo! Lечно! Assuciamolo da cima a fondo! E qui! E qui! E qui! Non ti credo! Questo figlio d... una ballerina! no ho fatto un sacco di missate guarda domani no si perchè non so chi darla quindi la do te guarda c'è questa armatura la prendo io la prendi te ma dove ho condivido ok forse domani ti regalo una carta da 20.000 da 50 mi serve un po' per una evo perchè ho lo spray che ha bianco e la U bianca la K quando se non non Ma dai! Gioca a pallone Contra i coglioni C'è buongiorno? No Non adesso Cosa? Non adesso Cosa? Conosci il programma chiamato OBS? Aperto Sì, è attivo Quindi non consiglio Cazzo, non lo prima Che cazzo ne sapevo io? Un portaforte Adesso che me l'hai detto Vergogna Oh, oh, oh Spari, spari, spari Ho un repteo Prendilo se vuoi Eh, però qua c'è il rift No, non usiamo il rift Abbiamo ancora 30 secondi per andarcene Anzi, facciamo una cosa Facciamo una cosa Consumiamo sto barile Io non lo lascio mai nemici Colpi c'è un po' io uno Adesso te li do Grazie Quante quanti armi epico leggendarie hai? Eh, Stryker blu Ramjet viola Hammer mitico Ah, io ho Stryker rapid Legge A cap Legge E bar Bar Blu Blu Mitra blu E trascedori Ah, quattro armi Ho cinque No, sto dicendo quattro armi, porti Perché si è detto che c'hai il Ranger La Stinger Lo Stryker Il Ramjet Ho lo Stryker E la K Ranger E il Barret Ramjet Sì La Mitra La Mitra La Stinger Rai Sì E ho tre scildoni Oh Presso io lo cerco Oh, si fa nulla What the fuck Ma che è successo? Cosa? Sono spariti Ah, non ho fatto Hanno preso questo po' E sono volato sta, via Sono morti da safe Questi qua Per forza Beh, come Una barca Oh, la barca Vieni che non portiamo No, 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 no Non facciamo la stessa cosa Potremmo finire fuori zona È meglio Quei due sicuramente Oh Che ha sparato? O sono finiti in Afghanistan O sono finiti in Afghanistan O sono tornati Eh, v Oh C'è qui il volo Eccoli Fatto L'avevi danneggiato? Sì Micchia L'altro nel cespuglio L'altro nel cespuglio L'altro nel cespuglio Aspetta Ciao Combat 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 Che mi sa te Che faccio? Cento No È caduto tutto Ah Fu Che culo Non cuarmi È bello Totto Ma va questo? Non ho capito Ma sei tu che spari? Sì Non ho voglia di costruire Tra me la dà di una mano Non far cadere Non far cadere Sto curando Ecco 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 Ci sono Tantissimo Ecco Lo so Ecco Ecco Lo so E questo è il problema più grande Un shieldini Nice Minchia ho one shotato Senza esitazione C'è un'altra qua Dove? Che cazzo è la roba Non rischiare Dove ho qualcosa? Mi sa di no Quanti cure ce ne sono un sacco però Ci sono tanti shieldini e mini però Non ci sono medici C'è quelle robe lì Qua c'è Un po' di Spray Ho solo Ho solo Ho solo Ho solo Ho solo 800 di legno Ci sono dei legni di mattone Niente lì Sì E aspetti appena esci Tu guardi Ma che hanno entrato? Vai 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 Andiamo lì là dietro mentre faltano Non sparare Bucciamo lì là dietro No 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 Uno l'ho preso No shield Attento all'altro Che è ancora lì sopra Non ha sparato il pump Fatto Un altro team lì eh Occhio Ok sono full Safe 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 Via Ma sono full Ma sono full di tutti i marzi o Sì anch'io sono full Sono lì dentro Sì Aspetta Che missato Che missato Che missato Che missato Che missato Che appena spucca lì Che non ho c'è che la tente A te Attento No 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 Non ancora Non esporti Non esporti Non esporti È l'assetto È l'assetto 189 189 No Perché hai fatto cadere Non ho cure di vita Ma shield Ma shield E' il salve dietro Anche la Fatto E' il solo E' era rimasto senza mamma Che è fatto Fatto Attento L'altro potrebbe essere dietro di te Bisogna di cure di vita però Ho uno shieldone se vuoi Eh no Non mi serve uno shieldone È lì dentro l'altro No non c'è Ho Eccolo Dov'è dal suo volo Che ho fatto Via 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 Stai andando alla laga Sto per usare la show qua Ma vabbè Oh Eeeh Kill a stile ninja Ma no Ne facciamo un'altra Let's go Quante kill Ne facciamo un'altra 12 12 12 kill Te 6 18 Benissimo Veramente benissimo Ne quanti haste sei fatto? 3 Io 4 Beh comunque Belle giocate Ne facciamo un'altra Che a me lo vado anch'io Che a me lo vado anch'io , che a me lo vado anch'io ? No